Ben trovati Videolettore del Capoluogo a questo nuovo appuntamento con Grandangolo, la rubrica con la presunzione di parlare di politica, ma non solo, e comunque oggi continuiamo a parlare di politica in maniera un po' diversa, un po' più distaccata, distaccata perché lo capirete tra un attimo, l'argomento è chiaramente quello che è successo alle elezioni politiche, quello che viene considerato, è stato considerato, ma non solo da noi in Italia, un po' in tutta Europa, per non dire tutto il mondo, una sorta di tsunami calato sopra, calatoci sopra, lo facciamo con Chico Di Benedetto, consigliere regionale della regione Abruzzo, ciao Chico, grazie a te di averlo accettato perché immagino che anche se da attore un po' più distaccato questo giro, comunque la vita, la politica impone dei ritmi veramente, veramente, come posso dire, a volte anche stressante, no? È faticoso fare politica, su, è relativamente faticoso la fatica, no? No, invece appartiene, dico sempre alle miniere, sono d'accordo, è faticoso non far danni, ecco, bisogna impegnarsi molto per non fare danni, e dicevo, lo faremo con Chico Di Benedetto, questa rubrica la seguiremo con lui, faremo un'amabile chiacchierata, una bella conversazione, divisa forse in due momenti differenti, il primo con Chico Di Benedetto nel ruolo di autorevole commentatore, perché non avendo avuto un ruolo diretto, vista la sua natura civica, no? In politica non ha avuto un coinvolgimento proprio diretto, pressante rispetto alle politiche, alle elezioni politiche appena passate, la seconda parte con una piccola panoramica sullo stato di salute della regione, su quello che lui pensa, che già conosciamo, ma andremo a verificare se avrà cambiato idea, un po' cambiato idea, se in meglio o se in peggio. Quindi Chico, passata la festa, come dice Gabbatolo Santo, le elezioni sono finite, siamo in attesa di un nuovo governo, innanzitutto io ti chiederei come hai vissuto tu e come hai visto e come hai letto questa campagna elettorale. Io l'ho vissuta in maniera molto attenta, ho seguito anche con il confronto, con il gruppo di cui io sono la sintesi, le fasi sia della organizzazione, della predisposizione alla campagna elettorale, alle forze politiche, sapete che io sono, ho un pensiero politico alternativo al centro-destra e quindi in quel campo io mi sono mosso e sono stato un attento osservatore. È chiaro che dal risultato elettorale, non che si sperassero cambiamenti particolari, perché con una legge elettorale come quella che abbiamo utilizzato in questa tornata, in automatico si capisce bene che la linearità con i sondaggi è abbastanza certificata, a differenza di altre occasioni dove c'è la possibilità di sbagliarsi. In questo caso no, addirittura noi abbiamo una legge elettorale che ci fa sapere, lo dicevamo prima con una battuta, fin dall'inizio chi sarà eletto e poi c'è un paradosso che quelle poche postazioni, in dubbio, anche dopo lo scrutinio non si sa in qualche modo chi le andrà a ricoprire. Quindi è veramente una legge elettorale paradossale, un mix fra il maggioritario e il proporzionale che obbliga coalizioni e che distorce un po' il sistema costituzionale della Repubblica parlamentare che è quello che appartiene a noi, alla storia della nostra Repubblica. Quindi non è stata una sorpresa, certo ci sono state delle riorganizzazioni all'interno dei partiti, questa grande ascesa di Fratelli d'Italia, un po' a discapito della Lega e nell'ambito del centro-sinistra questa separazione, questa veduta differente, nonostante quasi tutte le forze politiche, anzi tutte sostenessero negli anni precedenti alcuni governi un po' più politici, ma nel caso specifico l'ultimo governo Draghi, vederle separate è stato insomma un po' difficile e di fatto non so se unite sarebbero cambiate le cose, questo non lo so, però di fatto la proposta poi viene un po' indebolita, soprattutto in virtù della legge elettorale, quindi il risultato è quello che è oggettivo, ha vinto il centro-destra, il Presidente, il candidato Presidente o comunque il designato in attesa di ricevere l'indicazione del Presidente della Repubblica sarà Giorgia Meloni, vedremo che cosa accadrà e se avrà capacità di lavorare bene per il nostro Paese. Come ti dicevo tu non sei stato, quando ho detto non sei stato direttamente interessato non intendevo certo dire che tu non abbia partecipato in qualche maniera, intendevo dire che non ti sei trovato a dover vivere in maniera proprio diretta l'impegno legato a una tua formazione politica o alla tua persona, però tu avendola vista, avendola seguita, che cosa ho avuto modo di giudicare, non adesso ma proprio dall'inizio, ho avuto modo, una riflessione che ho fatto con altri tuoi colleghi, alcuni candidati, ho trovato una campagna elettorale veramente strana, strana forse per le mie, per esempio il centro-sinistra, secondo me ha condotto una campagna elettorale, l'ho trovata un po' vuota e forse un po' troppo aggressiva, vuota di contenuti, molti slogan, i slogan ci sono stati anche dall'altra parte per carità, tu come l'hai vista, come l'hai letta questa campagna elettorale, questo continuo richiamo all'emergenza democratica, questo richiamo al ritorno del fascismo, peraltro considero un errore di fondo perché queste dichiarazioni presagivano quello che sarebbe stato il risultato, dichiaravano e certificavano dalla parte di chi stesse perdendo che il vincitore sarebbe stato l'altro, ma come l'hai percepita? Guarda, ne più ne meno di quello che è accaduto negli anni passati, dove c'è la volontà di cambiare le cose, perché il paese sta in difficoltà, le persone stanno in difficoltà, ci sono esigenze importanti al mondo del lavoro, della tenuta sociale, della sicurezza e quindi ci si aggrappa un po' a chi contesta di volta in volta, se pensiamo e andiamo indietro nel tempo, ci accorgiamo che in fin dei conti quando il PD ha avuto quasi il 40% veniva da una crescita dettata da una alternativa al governo di centrodestra, c'è stata la possibilità di crescita dei Cinque Stelle, rivoluzionaria quella addirittura, perché è proprio pura, dettata da un fronte cittadino che si misurava con l'esperienza politica. Molto vicino al civismo. Però è un po' differente, perché la consapevolezza del civismo, delle dinamiche della politica è un po' una sorta di non voglia di prendere parte nella dimensione, ma avere un'idea di qual è il tuo campo, invece la posizione dei Cinque Stelle di allora, i Cinque Stelle di ora sono totalmente cambiati, hanno governato, addirittura hanno governato su più impianti di condivisione, hanno un leader che comunque tutto è, tranne che è una persona calata dal nulla e che non ha un'esperienza anche sua personale, ma comunque ha una sorta di piglio un po' più moderato, che è quello che è totalmente diverso rispetto a quello che si aveva qualche anno fa. Quindi né più né meno quello che è accaduto alla Lega, anche se è stata un po' da vasi comunicanti, l'ascesa e la discesa, che è nell'ambito della stessa struttura di partito. Poi è chiaro, nell'ambito del centro-sinistra c'è sempre la tenuta del Partito Democratico che si attesta su una percentuale, che è una percentuale che tra l'altro era stata data anche dai sondaggi un po' più giù, il Cinque Stelle si pensava che andasse peggio, in realtà c'è stato un grande recupero e la parte un po' più liberale secondo me ha un po' avuto delle disfunzioni scegliendo prima di stare in un campo, poi uscendo, poi recuperando un'alleanza con Renzi che poteva benissimo secondo me stare nell'ambito della condizione del Partito Democratico. Non si sono capite alcune cose, né la rottura giustificata dal discorso dell'agenda Draghi, la rottura fra il PD e i Cinque Stelle, però forse i Cinque Stelle avevano deciso di rilanciare la proposta politica e quindi non so fino a che punto avrebbero accettato di ristare insieme al PD. Hanno trovato un po' una via di uscita e ha ragione, hanno avuto consenso però per una prospettiva chiaramente di acquisizione di una visibilità di parte. Alle elezioni l'hanno vinte gli altri. Il PD, una volta che si è trovato in una condizione, diciamo così, non dico di solitudine, ma di doversi guardare intorno, non ha avuto la capacità di mettere insieme tutta l'area liberale, perché la domanda, Renzi può piacere o meno, ma nel sistema maggioritario, diciamo così, misto proporzionale, se tu guardi altrove avresti dovuto tenere dentro tutti e se avesse tenuto dentro tutti molto probabilmente non ci sarebbe stata la fuoriuscita e quindi un ricongiungimento che alla fine sommando i voti, Calenda, Correnzi prende il 7, 7 e mezzo, Labbonino e Calenda avevano il 6 e mezzo prima della campagna elettorale. Insomma qualcosa di particolarmente non azzeccato da un punto di vista tattico c'è stato, non so se questo però avrebbe permesso di reggere il colpo in questa ondata che vede Fratelli d'Italia in crescita in maniera molto forte che l'ha portato alla ribalta ad essere il primo partito. Tu adesso hai usato una parolina magica che è stata tattica, ma secondo te la politica in Italia, i partiti in Italia per quanto costretti dal meccanismo elettorale, ma possono realmente rinascere da un presupposto tattico? Assolutamente no, ma c'è l'aggravante del tatticismo, perché finché è un tatticismo di parte dove ognuno vuole segnare il campo, e questo i padri costituenti l'avevano messo proprio nel tavolo della discussione, la carta fondamentale della Repubblica dice che il sistema è proporzionale di fatto, perché se tu devi scegliere il Presidente e il Governo una volta che hai fatto le elezioni, la piattaforma di Governo, quindi la base programmatica, la redigi con l'accordo fra le parti, ma il tatticismo esasperato è quello individuale, noi qui addirittura abbiamo l'aggravante, perché finché è quello di parte, non condivisibile, perché tu devi guardare anche la possibilità poi di poter essere, di contendere la carta, invece qua noi parliamo anche di quello che può tornare utile a ognuno di noi, e questa è la negazione della politica, perché l'utilità del singolo si esprime in campi e in settori che sono diversi alla politica, il senso della politica è lo sviluppo di un percorso collettivo in sintonia, ma non appiattito sulla rigidità di un pensiero, la capacità di crescita sta nel complemento, dove ogni parte mette ciò che manca all'altra, in un campo che è un campo chiaramente alternativo, mai contro l'altra proposta politica, ma che deve far passare, non solo la possibilità di credere nel successo di questa aggregazione di complemento che si fa, perché altrimenti le persone perdono anche entusiasmo, ma avere anche consapevolezza lì dove lo devi fare a monte, che c'è comunque un collante rispetto al quale nessuno si muove e tutti sono pronti a difendere. E' comunque un percorso da seguire, un percorso da seguire. Un tracciato da seguire. Chico, passando adesso direi di palo in frasca, scendiamo un attimo verso quello che è il tuo ambito in questo momento naturale, cioè che è la regione, il consiglio regionale. Adesso al di là delle contraposizioni, cioè chiaro tu sei un consigliere di opposizione e quindi istituzionalmente svolgi un ruolo di contrasto a quella che è l'amministrazione di centrodestra, quello che è questa giunta e quello che è il presidente della giunta regionale. Ma più in generale, se tu domani mattina fossi, se tu fossi il presidente della giunta regionale, tre cose che faresti per sperare di riaccendere un booster a questa regione che a fasi alterne sembra trovare la luce e poi ricadere, anche per fattori esogeni, perché non ci dimentichiamo che questa regione passa attraverso due terremoti negli ultimi 15 anni, una pandemia, adesso la guerra come tutti gli altri, quindi le difficoltà sono state anche maggiori, però tre cose che tu faresti se potessi schioccare le dita e dire da domani mattina… La cosa più drammatica che vive la nostra regione è il comparto della sanità, la disfunzione lo vedete, all'ordine del giorno, l'incapacità di poter dare risposte serie, strutturate, logiche anche, da un punto di vista di offerta della soluzione dei problemi della salute. La salute credo che sia il diritto più importante e che mette d'accordo tutti i cittadini, perché ognuno di noi sa che quando ha a che fare con difficoltà legate alla salute, avviene in secondo piano qualsiasi. È il collante che ci lega tutti noi. E noi abbiamo una regione il cui bilancio è dedito alla tutela della salute per quasi la sua totalità, 75-80%. E in realtà, nonostante le ingenti risorse nazionali e regionali, noi non riusciamo a dare un adeguato servizio sanitario ai nostri cittadini. Addirittura andiamo in perdita rispetto alla proposta sanitaria. Non solo non lodiamo, lodessimo perdendo, andando in deficit, avremmo già fatto un servizio, le manovre in deficit. Quando tu devi fare qualcosa di urgente, la salute lo è, mi indebito, vado giù, però quantomeno reggo il colpo. Non lo reggiamo neanche avendo le aziende sanitarie che sono in enorme difficoltà. Pensando che la nostra regione poi, da un punto di vista territoriale, ha un filo strategico che è la capacità, almeno sul fronte dell'Aquilano, di avere un bacino d'utenza incredibile a 100 km. Basterebbe alzare il livello dell'offerta sanitaria, ancor più nella nostra città, abbassare i tempi e aggredire quel bacino per risanare. Ma secondo te questo da cosa dipende? La sanità è sempre stata materia di difficoltà nell'ambito della proposta politica e di distacco un po' per paura, cioè o ci stai dentro a pieno e non ci stai nella maniera giusta, oppure ti distacchi per timore e non riesci a raggiungere gli obiettivi del caso. Andrebbe fatto, noi stiamo in ritardo su tutto, cioè noi ancora non abbiamo, diciamo così, è stato proposto un piano di reingegnerizzazione della rete ospedaliera, ma non è dato sapere il punto di arrivo, cioè ci sono... Poi devi generare anche il giusto equilibrio fra quello che vuoi fare e i costi che comporta quello che tu vuoi fare. Noi lo stiamo scontando, lo stiamo scontando in ogni dove, cioè noi non abbiamo la capacità di creare una proposta di crescita, cioè una sorta di autofinanziamento della sanità e tu ce l'hai solamente se c'hai la qualità per stemperare qualcosa che appartiene al contenimento dei costi ma che lasciano il tempo che trovano nel momento in cui tu tagli, 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 guardiamo il presidio ospedaliero dell'Aquila dove i tagli portano alla disfunzione che tu hai materiali scadenti, hai tempi di attesa lunghi, insomma quello è un elemento, è una partita su cui bisognerebbe prestare tanta tanta attenzione anche perché noi spentiamo delle risorse se abbiamo da dare delle risposte che riguarda veramente non la collettività in senso lato, in senso puntuale perché abbiamo detto che la salute è materia di tutti. Un grande piano infrastrutturale con la contingenza del PNRR, anche qui non c'è stato un dibattito reale su dove noi vogliamo portare la Regione Abruzzo. Abbiamo un po' subito le varie vicende, delle occasioni di canali di finanziamento, un po' così spot, però non c'è veramente la possibilità di calarsi dentro un dibattito pubblico anche perché io devo dire che durante questa legislatura ciò che nelle legislature passate era addirittura presente in maniera rivoluzionare le stanze delle parti, dell'associazionismo, del sindacato, non so se per stanchezza o per effetto diciamo così timore riverenziale ma il dibattito lo vedo praticamente assente il confronto la piattaforma di dialogo per costruire qualcosa insieme e questo si manifesta ancora di più nelle politiche del lavoro e nelle politiche della crescita economica della nostra Regione, nelle prospettive dell'aumento delle possibilità occupazionali e di insediamenti industriali commerciali quello che c'è. Insomma è un momento favorevole questo perché nelle nostre realtà territoriali mai tanti denari sono stati investiti nella pubblica amministrazione. Non so se la strada è quella giusta, è chiaro che la strada è quella degli investimenti però i contenuti servono tornando al sanitario oppure sul PNRR c'è una strategia di crescita infrastrutturale l'ospedale di prossimità, la casa della salute, ma poi non c'è la possibilità di riempire quelle strutture di coloro i quali il servizio sanitario lo fanno, il personale. Noi abbiamo carenza di personale e quindi mi dirai, certo per il personale c'è bisogno di risorse, ma le risorse sono finite, non sono infinite. C'è l'esigenza invece di stravolgere la prospettiva organizzativa e autogenerare risorse alzando il livello della qualità, cioè favorendo la domanda e assumendosi la responsabilità di alzare il livello, la meritocrazia che paga sempre, questo è difficile in politica perché la politica è sempre nella prossimità, quello che è più vicino a me deve essere soddisfatto al di là delle qualità, insomma ci serverebbe un po' un'inversione di tendenza e una capacità a stare in un circuito su tutti i settori, perché poi la regione ha competenze istituzionali importanti penso ai trasporti. E infatti i trasporti, cioè tu che cosa pensi, come vedi l'approccio della regione rispetto all'infrastrutturizzazione insomma di questa roba fenice del collegamento rapido che colleghi Pescara e anche l'Aquila, mi auguro, a Roma? Sì, guarda, il terreno adriatico si cala anche nelle reti trasfrontaliere, insomma in questa proposta di unire un po' il bacino europeo in un sistema di dimensionamento importante che può avere anche dei fondi a disposizione e che riguarda il trasporto delle merci e si sta cercando di capire, parlo del collegamento Pescara-Roma ma di calarlo anche nell'ambito, non dico dell'alta velocità, ma di una sorta di raddoppio che possa portare a Roma in poco tempo anche le persone. È chiaro che la posizione delle aree interne è molto più articolata, se parliamo di regione non posso parlare di L'Aquila, io parlo anche del Terraman, dove c'è l'esigenza di sviluppare un sistema secondo me immediatamente di interconnessione perché il trasporto che noi abbiamo avuto sempre su gomma, la disfunzione del trasporto pubblico locale che a contributo pubblico permette di portare anche poche persone o sicuramente dentro la regione o anche le intercity fuori regione dovrebbe trovare però una sorta di avvicinamento o quantomeno sulla realtà più importante verso la quale la domanda c'è, e parlo della realtà romana. È chiaro che nel piano delle infrastrutture di Roma sarebbe stato bello intervenire, visto che anche il nostro Presidente dell'Aggiunta regionale viene da quella realtà, sul dimensionamento di prospettiva della metropolitana di Roma perché bisognerebbe capire se c'è uno sviluppo verso l'area di Tivoli o d'altro che potrebbe essere veramente anche attraverso un'interconnessione, non per il pendolarismo perché poi si parla che il turismo si muove in maniera più dinamica, ma poi è una cosa completamente diversa, o i frequentatori occasionali, quindi c'è da lavorare, c'è da riflettere, c'è la capacità di star dentro le dinamiche del problema. Mi devi scusare, io ti devo interrompere per due ragioni velocissimamente. Prima che ci avviciniamo alla chiusura, sarebbe, ma avremo ancora malo di affrontarlo, questo se tu avrai la disponibilità lo faremo sicuramente. Io volevo semplicemente darti 30 secondi per rispondere a quella che è stata una provocazione da parte del capoluogo dovuta a delle indiscrezioni reali, mi devi chiedere, non ce la siamo inventata dalla sera alla mattina, un pezzo che è uscito sul nostro sito, che parlava di un tuo possibile avvicinamento al Movimento 5 Stelle. Guarda, io sono vicino a tutti perché il mio modo di fare è veramente conciliante, io credo in Consiglio regionale di essere una persona stimata e apprezzata per il mio modo di essere. E proprio questo mio ruolo non lo posso svilire in una fase così delicata per il centro-sinistra che dovrà lavorare da qui a due anni a creare una proposta di alternativa al governo, le cui criticità le abbiamo evidenziate poca anzi, e io non devo far altro che essere la persona, e mi auguro che insieme a me ce ne saranno tante, che dedicherà tempo e passione affinché ci possa essere una proposta condivisa nella futura competizione elezionale regionale. Chico, ti ringrazio ancora, mi scuso ma dobbiamo proprio interrompere, ma questa sarà la ragione per rivederci molto presto e affrontare magari un tema alla volta. Con molto piacere. Grazie ancora Chico, grazie a tutti voi, direttori del capoluogo, a un prossimo appuntamento con Grandangolo. Grazie.